I finanziamenti in cascade funding sono degli strumenti poco conosciuti ma assolutamente efficaci. Sono di fatto dei finanziamenti contenuti all'interno di programmi che hanno già ricevuto un contributo dalla Commissione europea. Questi programmi ricevono il mandato di distribuire parte del finanziamento ricevuto ad altri soggetti, alle cosiddette terze parti, che entrano a far parte del contratto di finanziamento solo in un secondo momento. Sono finanziamenti che in genere vengono erogati a piccole e medie imprese o a start-up per attività di test, di validazione o di sviluppo di nuove soluzioni, oppure questi soggetti vengono chiamati a proporre delle loro soluzioni, quindi una loro progettualità, all'interno di progetti più ampi. Sono strumenti di finanziamento molto difficili da mappare. Esistono delle call attive e che hanno un periodo di attivazione spesso anche molto breve e quindi è molto importante cercare di rimanere aggiornati più possibile sull'esistenza di questi strumenti. Sono strumenti di finanziamento ad esempio che possono dare contributi per partecipare a un programma di accelerazione da remoto. Si può ricevere un contributo a fondo perduto che può andare dai 5.000 euro fino ai 100-150.000 euro. In genere la percentuale di finanziamento è al 70%. Nel commento a questo video vado ad inserire un link ad una scheda che viene mantenuta costantemente aggiornata sul sito di ideare su cui potrete recuperare tutti i cascade funding attivi nell'arco di un periodo di circa un mese-due mesi. Grazie. Grazie a tutti.